Ciao a tutti ragazzi, proprio in questo unissimo video oggi siamo qui per farvi vedere questa 17esima uscita di Titanic La Nave La Leggenda e andiamo a vedere un po' cosa abbiamo ricevuto qui ce l'è fa cingola, qui c'è il cartone che mi serve, dove lo possiamo buttare e andiamo a vedere il fascicolo Titanic La Nave La Leggenda numero 17 nel prossimo numero sezione 3 dello scafo sinistra, cupola, lucernaio e viti il Titanic alla prova, il Titanic a destra viene spostato fuori dal bacino del caricio ah, l'Olympic, Titanic e Olympic, il varo del Titanic, il gigante dei mari, bellissimo se fosse proprio tecola a noi tutto rimemba, il salvataggio miracoloso, il barbiere del Titanic e qui iniziamo a costruire il secondo fumaiolo che vedremo nel prossimo episodio ciao